Gli altri quattro non li conosco, Luis non me ne ha mai parlato, neanche della villa sapeva niente. Insomma, lei è fidanzata da più di un anno con uno sconosciuto. Ma che cosa vuole che le dica? Quello che non so. Mi sta crollando addosso il mondo e lei continua a farmi sempre le stesse domande. Invece di farle a me, le faccio a se stesso queste domande. Si chiede perché sono scesi in guerra con il mondo, perché si comportano come dei pazzi. Per quale ragione tre ragazzi che non hanno nessun motivo di rubare, rapinano, ammazzano e rischiano anche di farsi ammazzare. Ma no, voi non ve le fate queste domande, no. Ed anche avendo tutti i mezzi per catturarli vivi, voi gli sparate a vista proprio perché avete paura delle risposte. Ma guardi, mi lasci in pace, io il mio dovere l'ho fatto, se ne vada. Senta... Le ho detto di lasciarmi in pace, se ne vada. Che cosa vuole ancora da me? Vada via! Prego. Se ti telefona, ti allo all'apparecchio il più possibile, così almeno lo prendiamo vivo. Ma ti vorrei ricordare che gli agenti che sono morti non hanno avuto il tempo di fare nessuna domanda, capito? Ecco. Vi Reverse. Quindi vlichkeit. Grazie.